Tre sconfitte consecutive, una striscia nera da interrompere, ma soprattutto la Sardegna Arena a riabbracciare il rosso-blu. C'è anche la bellissima nuova maglia del centenario da onorare, c'è il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Cagliari-Milan, partita davvero per cuori forti. Castiglieco ha aperto il gioco su Benasser, quindi Cialanoglu. Cialanoglu si sovrappone, Teo Hernande, sinistro Olsen. a mettere in corner, pericolosissimo il Milan. Samu Castiglieco, la sventagliata verso Teo Hernande, arriva però Leao, Leao, il rosso su. Ibra di testa, Olsen, con un colpo di Reni, miracolo di Robin. Milan che è partito forte, fortissimo. Ibra da posizione impossibile, bravissimo Olsen, anche con il palo. Cialanoglu in mezzo, colpo di testa e Leao, con la zampata sul secondo palo, fuori di un niente. Che pericolo. Spizza Romagnoli, Leao sbaglia la mira di poco. Rilancio di Gigio Donnarumma su Ibra, catalizzatore di tutti i palloni. Leao a destra per Castiglieco. Uno contro uno con Pellegrini, il raddoppio di Rog, poi Cialanoglu. Fuori, senza problemi per Olsen. Pallone spizzato verso Joao, buona l'apertura verso Nandez. Uno sguardo in porta, va in porta Nandez! E Donnarumma a evitare l'euro-goal del Leon. Prima sortita, rosso-blu. Attenzione perché l'azione non è finita. C'è Pellegrini, Pellegrini. Il cross diventa quasi un tiro. Direttamente fuori. Ha provato l'impossibile. Nathan Nandez. Bravo Donnarumma a ritrovare la posizione. Castiglieco su Leao. Destro di Leao! Uno a zero Milan. E ancora una sfortuna nera che ci vede benissimo. Ormai da settimane. Deviazione di Pisacane. Olsen fuori causa. Milan in vantaggio. Esulta Leao. Che scatta con i tempi giusti. Poi però è molto fortunato. Nengolan a destra verso Farago. Poi Nandez al centro. Mette fuori ancora la difesa. Doppio colpo di testa. Sta arrivando Pellegrini. Ancora Pellegrini fuori per Raja. Pensa al tiro. Poi la mette dentro su Simeone. Rovesciata. Qui Donnarumma non ha problemi. Calabria scodella su Ibraimovic. Non la prende nessuno. Neanche Farago. Allora il cross per Ibra. Sinistro! Eccolo qui. Il gol di Ibra. Lo spauracchio. Raddoppia. Esulta. E siamo sotto 2 a 0. Sinistro chirurgico del fenomeno svedese. Qui Robin non ci può arrivare. Finisce qua. È un'altra sconfitta. È un'altra amarissima giornata. Per noi dobbiamo combattarci. Dobbiamo voltare pagina al più presto. Per il momento c'è solo alle carsile ferite. Alla Sardegna Arena passa il Milan. 2 a 0.